e adesso abbiamo un grande comico che io adoro anche perché ogni volta che passa da queste parti poi insomma è dei nostri Gabriele Cirilli ciao buongiorno eccoci buongiorno mi fai già ridere te lo dico perché sei straordinario proprio metti di buon umore questo è un una grande cosa è una grande missione Gabriele come stai che bello vederti si 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 faccio sì sono sono molto contento perché sono in giro in tournée che è il mio mondo io adoro il teatro più del cinema e della televisione davvero più della tv soddisfatto e ci credo più della televisione ci credo c'è un rapporto col pubblico molto molto diretto è uno scambio di emozioni bellissime quindi nessuno ti dice quanto deve durare il pezzo sei più libero anche no di di creare di improvvisare anche perché secondo me tu improvvisi anche moltissimo esatto allora ricordiamo un po' lo spettacolo del quale però avevamo già parlato se ti ricordi perché ti seguo tantissimo lo sai eh e non te reghe più sì sì ma anch'io eh seguo sotto casa non credo non te reghe più al titolo dello spettacolo sta andando via la linea no 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 ci senti sentiamo allora io posso già dire che in lombardia sarei a legnano al teatro trinnanzi domani che il 14 di marzo poi arrivi a al teatro delfino di milano dal 15 al 17 marzo e poi giovedì 11 aprile sarei al teatro di varese si chiama proprio così teatro di varese a varese quindi insomma di varese a varese come il giornale il giornale tre occasioni per vederti ricordiamo di cosa parli in questo spettacolo che cos'è che non reggi proprio più allora intanto non reggo più i call center scusate ma io farò una petizione perché non possono assolutamente questo non lo dico neanche nello spettacolo ma alle sette di mattina all'altra mattina proprio pronto sono noana vuoi laurearti che io gli ho detto ma è sette di mattina chiamami a mezzogiorno ci ci chiamo anche la facoltà no e ci metto il pensiero poi non sopporto più magari fare stare sempre troppo sul web pensa quanto sarebbe più bello adesso se io fossi lì vicino a te assolutamente ma quando passi dalla lombardia ci vuoi venire cioè quando ci sei praticamente e vuoi venirci a trovare lo sai che ci fa ci fa piacere non te reggi più in cui ci si rivedono le persone il pubblico si rivede molto nei miei non te reggi più senti lo stare sui social lo regge ancora allora lo reggo fino a un certo punto nel senso che è utile stare sui social assolutamente però è quando le cose vengono fatte in modo eccessivo come quando uno si fa i ritocchini no io non reggo più quando le ragazze no esagerano c'è un'amica di mia moglie che si è fatta sei interventi alla bocca adesso sembra una papera quest'estate si stava facendo il bagno al lago e i bambini gli diravano i pezzi di pane questo è nello spettacolo ovviamente non reggo più le esagerazioni dai dai ancora ancora voglio sapere tutto quello che non reggi più poi non reggo più non reggo più le persone che ti dicono quello che devi o non devi fare per esempio io sono stato operato all'anca perché sono andato a sciare e a me sciare non mi piace mi hanno costretto io sto allo sci come fassino sta al bodybuilding e quindi capirete che per me è di o come malgioglio a un raduno di camionisti non sei un tipo sportivo no ma ti capisco perché è tremendo e quindi chiaramente in questo spettacolo questo sciorinare in un te reg più porta a due ore di veramente di spettacolo puro dove si ride si riflette ci sono balli ci sono canzoni e poi c'è una sorpresa ci sono degli attori della factory di cirilli della mia scuola che mi accompagnano come io accompagnavo proietti il grande mio maestro ma che bella cosa che hai detto è bellissimo no quando si trova un maestro tu hai trovato proietti ma i ragazzi sono fortunati a trovare te che sei un grandissimo sono solo io il maestro ce ne sono tanti dove insegni lo possiamo dire dove insegni sì sì c'è una scuola in abruzzo dove io sono nato e i ragazzi vengono da tutta l'italia dalla sicilia a milano fino a luga ce n'è uno che viene addirittura da torino cioè due che vengono dall'emilia romagna dalla toscana dal friuli sono molto molto onorato che l'abruzzo possa ospitare sti ragazzi e ci sono insegnanti di alta formazione professionale per esempio uno su tutti fabrizio costa che è il numero uno dei registi cinematografici di tutte le fiction più importanti sul re uno e in cinema quindi insomma hanno la vera qualità non li nomino tutti per non tediarti però è una scuola fatta come si deve ed escono attori fantastici purtroppo dobbiamo salutarci perché abbiamo la redazione però ricordiamo velocemente che domani sarai a Lignano al teatro Trinanzi poi a Milano al Delfino dal 15 al 17 e l'11 di aprile al teatro di Varese è stato con noi Gabriele Cirilli un bacio grande grazie ciao Gabriele come promessa anche da Chili Peppers con Road Tripping che è il mio pezzo preferito in assoluto